Ma quando è che l'ha mandata a casa questa? Quando è che l'ha mandata a casa? Fa solo danni, non fa una giusta, una giusta. Aveva detto blocco navale e ora vengono dal sud. Ora per sviare un po' le cose dice mia piena responsabilità sui controlli e confine. Ora faranno in Slovenia ore e ore di fila. Si torna indietro in questo paese invece che andare avanti. L'unica cosa che funziona a Schengen che puoi andare in tutti i paesi d'Europa senza fare più le code di quando erano gli anni 80 che mi ricordo bene cosa vuol dire avere un confine io se viaggi che ti facevi le ore di fila rimette i controlli sta cialtrona perché cosa? Ma come si fa a essere così cialtrona? Non sapendo governare si tolgono le libertà delle persone di viaggiare, delle merci solo controlli perché non sai controllare il tuo paese. Io sono stanco di avere una così una coatta romana che avrà la quinta elementare se c'ha forse ragioneria e governa l'Italia e ne ha zecchata una! E gli italioti vanno dietro perché dice sono cristiana, sono italiana, sono una populista populista, poi dicono che noi siamo i populisti quella è la populista non c'ha la possibilità di avere altre cose